Si fa palestri! Che belli sei! Eh si! Qui! Qui c'è tanti scalini ragazzi, io ve lo dico! Io ve lo dico! Che è? Di qua! Bella roba! Bella roba! Ecco questa si! Che cazzo! Bisogna arrivarci più veloci! Aspetta! Eh io pezzo! Ah di qua però! Però! Nel senso! Mi son reso conto! Mi son reso conto! E potevo! Anche! No! Io l'ho fatti! Ma il primo sono stato di qua! Il secondo l'ho fatto e il terzo c'è a questo canale! Mi farebbe voglia di vedere Ard! Che ti odi? Non lo so! È Ard! È Ard! Riprendiamo l'Ard! Vediamo il lavoro eh! Bello no eh! Bello un'altra cosa! Cazzo! C'è ma! Qui siamo un po' al limite eh! Eh ragazzi! Oddio è qui? Eh eh! Sì eh! Figurati dove è stato! Metrotto! Sono alle parti!